Buon pomeriggio amici e benvenuti in un nuovo video! Dopo una ricca colazione siamo usciti a fare una bella passeggiata qui in campagna. Grazie per la visione! Ci stiamo preparando per l'arrivo dell'inverno. Abbiamo già iniziato a portare a casa un po' di legna per accendere il camino. Buon pomeriggio! 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 molto goloso. Ho infine realizzato anche una piccola dispensa delle fate, anche questa da regalare. Grazie come sempre per essere passati a trovarmi, vi auguro uno splendido fine settimana, un caro saluto al prossimo video. Grazie a tutti.